e visto che tu ami le alfa proseguiamo ancora con alfa questa è un gioiello è praticamente una giulia veloce e il vero alfista sa cosa vuol dire giulia veloce allestimento sportivo e come la vedete praticamente una vettura che costerebbe nuova sui 55 60 mila euro noi la proponiamo del duemila e di scusami devo anche bisogno ogni tanto del 2018 a soli 29 mila e 500 euro più il passaggio pochissimi chilometri un anno di garanzia la prepariamo ovviamente con lucidature tagliando prima di consegnarla sono vetture che si può raggiungere un sogno senza spendere chissà quanto mi sembra veramente un ottimo prezzo